Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Si è consumata così nell'arco di pochissimi minuti la presenza in veste di testimone nel processo gota dell'ex sindaco di ragione e presidente della regione Giuseppe Scopelliti, citato nel troncone in corso con il rito ordinario nell'aula bunker dai difensori dell'ex senatore del Popolo delle Libertà Antonio Caridi e dell'ex assessore comunale Amedeo Canale. Giuseppe Scopelliti, nato in regime di semilibertà, è giunto in aula accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Aldo Labate. L'ex presidente della regione in gota risulta anche indagato per reato connesso. Tra gli imputati di primo piano chiamati a rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno, violazione della legge Anselmi sulle società segrete risultano anche l'avvocato Paolo Romeo, ex parlamentare dell'OPSD, avvocato Antonio Marra, già consigliere di amministrazione di Fincalabra, l'ex sottosegretario regionale alle riforme della giunta Scopelliti Alberto Sarra, l'ex presidente della provincia di Reggio Giuseppe Raffa, la giornalista Teresa Munari e il sacerdote Giuseppe Strangio. Il collegio è presieduto da Ornella Pastore, mentre la pubblica accusa è rappresentata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dai sostituti Stefano Musolino, Roberto Di Palma, Giulia Pantano e Walter Ignazitto. Giuseppe Scopelliti, lo ricordiamo, era stato condannato a 4 anni e 7 mesi di reclusione dalla Cassazione nell'aprile del 2018 per irregolarità nel bilancio del comune di Reggio Calabria. Durante la giornata è stato inoltre destinato dal Tribunale di Sorveglianza e Servizi Sociali presso una cooperativa e la sera rientra nel carcere di Argillà.